Siamo in piena campagna di Giordignano, dopo aver girato abbiamo incontrato un contadino che ci ha indicato e siamo riusciti finalmente a trovare il dolmen. Il dolmen ha una struttura in genere come simbolismo della preistoria, fa parte di un filone culturale che si determina con la cultura megalitica e in questo caso il dolmen aveva un significato spirituale come tempio o come sepoltura. Sempre in Salento, a Giordignano, vicino di Otranto, ora abbiamo scoperto un menhir e sicuramente che i menhir hanno una significazione falica. Siamo di fronte ad un altro simbolo della civiltà megalitica, il menhir. Anche esso aveva un ruolo sociale per tenere unita la collettività e la sua funzione ha soprattutto un legame per i riti legati alla fertilità. Al prossimo episodio